il primo è sempre quello non vedo riflessi ancora niente penso che sono scure le acque comunque sì, forse per quello vogliono una roba sberlucicante gli hai preso qualche metro Ricky? sì, sì, sì ottimo pensavo che era ancora nella casetta comunque sta puntando ancora tutto sotto sì, sì, sì non è un 32 forse 33 forse arriva a 33 non so, io sono vincuato tutte le volte che vado a pisciare ho queste sensazioni va, un bellissimo video Luca, la prossima volta apriamo una barca di 12 metri così almeno uno può pescare no, perché qui eccolo, sono arrivato al filo ostia, che buono non l'ho ancora guardalo, guardalo puttanis, puttanis, puttanis puttanis questo è un... e quello che è passato mi ha dato la codata a me ha dato un colpo con la coda sotto la barca e ci stava girando Dio boio, che pesce ricchi è già a posto già a posto, ci sono già venuto tre voli ricchi ha già le mutande croccante e infatti, vediamo, vediamo sentivo, sentivo uno strano scricchiolio guarda che stai sbrodolando ti esce qualcosa dalla gamba del pepone sentivo uno scricchiolio figa che pesce puttanis poi stasera quando segnerà il Mila gliela mandiamo a Fulvio fuori adesso ti sei spaventato quando l'hai visto eh, fa impressione, l'ho visto anch'io c'ha una pancia che fa paura è 70 centimetri questo qua si, si, questo è una... guarda che roba questo è il corregone forse più grosso questo qua è due chili e mezzo vieni Paolo vieni vieni madonna santa vieni madonna santa che cos'è? che cos'è? che cos'è? che cos'è? che cos'è riky? cosa cos'è... dai 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 è andato è andato madonna santa riky riky Italia 1 Gordon Grazie a tutti.